I cavalli sono in partenza, si parte con Mr. Barabba all'interno che prende subito il comando ma è Blumire che si infila tra i due avversari e si porta a condurre all'esterno di Blumire dovrebbe essere, è coperto come dubba, diverso, comunque vediamo che Blumire è ancora in testa attaccato da Sicrone e Club in seconda posizione, quindi cerca di risalire diverso e vediamo a chiudere fianco a fianco insieme a Roaring passa Sicrone e Club in vantaggio nei confronti di Blumire, cerca di risalire diverso in terza Sicrone e Seb allunga, prende circa due lunghezze di vantaggio nei confronti degli avversari, ci trova diverso cercano di risalire gli altri ma i due sono abbastanza staccati con diverso che ora passa in vantaggio si allunga diverso nei confronti di Sicrone e Club e va a vincere facile nei confronti di Sicrone e Club Brian Gold di fianco a fianco che effettua un tardivo finale diverso, 67 kg, mette il sigillo su questa corsa e con la monta di Jack Temperini dimostra di essere il più forte grazie a tutti